Eeeh Look i Rezi e benvenuti ragazzi per il Codric Oggi ragazzi andremo a fare il 3v3 solo dello standard E ragazzi c'è una sorpresina in quanto Oggi andrò ad utilizzare la Batmobile Siamo su Backwith Park, siamo con Bocca e Rp Contro Munchiboss e Hogan Va bene, batto i Ragazzi Ragazzi ma è facile, ragazzi Questo gioco è troppo facile quando Si gioca con me, perché se siete Fortunati trovate le persone che non sanno battere Eeeh io sono troppo forte Battle, wow Ok, non è successo niente ragazzi Siamo belli tranquilli, facciamo finta che non sia successo Niente in quanto non è successo niente Ho detto che non è successo niente perché non me lo ricordo Noi ci prendiamo il boost E missiamo La palla ragazzi, easy Mi devo ricordare che la Batmobile È un po' diversa come vola rispetto all'Octane Però L'importante è abituarsi un pochettino Giocarci un minutino e poi Sul lì che si segnano 5 gol Sono al centro Bra, eeeh Quasi, quasi C'eri quasi Apprezzo il tentativo No, non ci arrivo Vado a prendere il boost Va bene Vediamo che si può fare Eeeh Va bene, va bene Oh, vai che c'è il rinvio Cioè, vai che ci potrebbe essere il rinvio Buono, ti prego Un altro Me ne torno Tanto c'è quello che Segue Vai bocca Oh mio Dio Mi sono cagata a tosse Piano piano Non ci insegue nessuno Cioè, sì, ci inseguiva quello Quindi era meglio Velocizzare un pochettino il tutto Te la passo soft Certo che un tiro migliore La potevi fare Io te lo dico Bravo Perché? Scusami Hai fatto la cosa bella? Levate il cazzo Cioè Non è che uno dice No Ho sbagliato il double tap Vai bocca Bravo Però non so se chiama bocca 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 Eeeh Qualcosa del genere Cioè Vero We are diamante 2 Wow Mi hai illuminato il cammino La retta via Non l'avrei mai detto Che noi siamo diamante 2 Piano piano La passo Bella Vai bocca 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 Ma È il nostro amico R 3B Ti prego Non fare cazzate È un po' Deboluccio 3B Eh C'è già un po' spesso Ed è una cosa sbagliata Io lo faccio pure Qua ho sbagliato io My bad No 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 My bad Ci potevo arrivare Dovevo smettere di boostare E saltare dritto Io invece ho continuato a boostare E ho detto alla palla Sìa ci vediamo domani eh Tranquilla Sesta ora Questo è perché ragazzi Non mi elena abbastanza Non ci gioca abbastanza In quanto Un'ora al giorno Non fa Eeeh È bello bello sto alflip Se sbaglio pure io L'alfip Siamo a posto Forse l'unica cosa Che sto a fare decentemente È lo sbaglio No Troppo Ah Oh Anticipato troppo Peccato Perché comunque Diamante 2 Se gli fai quella cosa No 70% è gol Raga Noi ci schifiamo Questo gol È fantastico No Diciamo bel tiro Non c'è niente da dire Ripeto Se Si fanno cose dal muro In diamante 2 70% è gol Perché la gente non Non se l'aspetta Si confonde in aria Quindi È proprio Easy Prendo il boost Dobbiamo essere Un po' passivi Per ora In quanto quelli stanno Offensivi Oh Ho aspettato troppo Bellissima È stato bravo Cioè io sono stato stronzo Ma lui è stato bravo Vai No amico Amico vai ti prego Ok E da sai che non uso La battomobile Prego Quando vuoi Siamo sempre disponibili A fare amicizia C'è nessuno Ti prego Ma perché 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 Devi fare Ste cazzate Cioè spiegamolo C'era bello Tranquillo Con la palla Non c'era nessuno Arriva questo Spada Chi va Vado io Oh Te lo spingo In tre ci sono andati In tre No 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 Ok Piano Calma Ti Ti prego Boost Ti prego Boost Ti prego Boost 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 Dove sei Boost 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 Vieni Boost Vieni Boost Non me lo vado Finché non Non so che c'è il boost Eeeh boost Ok va bene Torno Eeeh Perchè gioco con la bat mobile? Fa giganti miei però Oh no Buono Peccato Uuuu nice Nooo non rubarmi il gol Ahahahahah Ahahah Nice shot Lol Ragazzi non Volevo arrivare primo Volevo l'nvp Ha un po' reggiquittato ragazzi il nostro Avversario Vabbè 4-1 giustamente Quelli potrebbero pure uscire Cioè noi Gli devono di meno Se qualcuno reggiquittò Ho proprio nullo Ma nullo non penso Perchè comunque a 20 secondi dalla fine La partita ormai è quasi fatta Cioè Ragazzi mi devo allenare? Nel laterale Quattro Eh Faccio un po' schifo Solo che ultimamente non ci sto giocando più di tanto E si vede GG Comunque la prima partita è fatta Ok ragazzi ci ha trovato la partita Andiamo subito con la seconda Vediamo dove capitiamo Siamo su Champions Field Day di giorno Siamo con Parallax Super Waze Contro It's Yabai Launch Balakapalakapalawa Come si chiama quello? Vediamo di cominciare Bene Ho provato a dancare Peccato Vado a prendere il boost Se riesco Ho sperato la mistassa Vado io Raga qualcuno? Ok è un po' primo però vabbè Eh amico dai Dobbiamo essere veloci Non dovevi fare questa cosa C'è lui quindi è inutile No Perché? Ma perché? Che palle Io ho provato a dancarlo Ma l'ha missata La volta che l'ho raga Di missarla in difesa E' buono Vai Nooo L'ho toccata Ma non l'ho toccata C'è un raga lo... Quanto sono stronzo Dovevo dargli un pizzico in più di tocco Ce l'ho toccata con la parte sotto No 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 Lo sapevo Eh vabbè Tu sei pazzo però Amico a metterlo al centro Te lo dico Poi che tu C'è lui, va bene Vai, 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 vai Ok Va bene Attento Ragazzi, questa La Batmobile appena viene toccata Tipo diventa i I Qualcazzo si chiamano? I Flipper Ah, i Spinner, ragazzi Gli Spinner Ok Eh, avevo poco boost Ho sbagliato il tocco Quindi faccio schifo Si, si può dire No, 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 no Dai, ci potevi arrivare Eh, vabbè Succede Ha sbagliato in difesa Ok Ti prego, segui Vado a sinistra E non ha seguito Ok Va benissimo Comunque ragazzi Nel kickoff Se ci sono due dietro E uno è davanti Se io sono a sinistra E c'ho quello di davanti Nella parte di sinistra Io vado a prendere il boost E quello di destra Che non ha nessuno La sua destra Va, segue Cioè, si segue così Nella battuta Quando ci sono due dietro E uno davanti Molta gente non lo sa E fa confondere Non ho Ho sbagliato Eh, raga Non giocare Non gioco da sé Con la batmobile Non Vi devo ricordare Che è stretta Bassa Lunga Cioè, sono cose che Con l'octane Ormai ho un preset mentale Che le faccio subito Cambiando macchina Il preset Se ne va a fancucciolo Ok Ok Mmm La dovevo prendere con La dovevo prendere con l'angolo Della batmobile Ma non ce l'ho fatta Infatti non gli ho dato Completamente potenza No L'ha stoppata Strongolo Oh, sono al centro E c'è l'altro Ok Ho pregiampato Da casa mia L'ho spinto quello Raga Nel mio schifo Sto dando fastidio Certo Mi trovo molto meglio Con l'octane Però È una cosa Che ho voluto fare Per cambiare un po' Il video Così ho voluto mettere La batmobile Non sto facendo schifo schifo Schifino Definirei il mio schifo schifino Ok Eh no Non posso fare niente Vai Vai Bacci Dove vai Dove vai Vabbè Sì Vabbè Ma perché mi scordo Che basta Sta macchina Devo saltare Un minimo Con la batmobile Vai Sono al centro Vai No Hai sbagliato il tocco Ok Arriva 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 No Mi ha confuso Qua ci doveva andare Peccato Abbiamo perso così a 12 secondi Cioè io ho sbagliato No la potevo parare Ma Ero messo male Cioè non ci sarei arrivato Cioè era troppo forte Ero messo Ero girato male Quindi Facciamo sta cacchiata Vediamo cosa nasce fuori Vabbè Raga E succede Abbiamo perso all'ultimo Ma comunque Sono state due partite così carine Io No no Sono andato al massimo In quanto non uso la batmobile D'assai Però ragazzi Eh Ci sta E che dire Se il video è piaciuto Non ti piace Comentate Schettere al canale Condividi Di video Con le vostre nonne C'è il nostro discord E quindi Se vi è tutto Bella Ehi E con tu Tobias